La presenza di un campo di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale determina sulla nostra regione condizioni di tempo stabile con temperature in ripresa. Le perturbazioni atlantiche al momento interessano le alte latitudini europee, dirigendosi sul sud-est dell'Europa. Sabato 25 aprile è previsto cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature in lieve aumento nei valori massimi, venti deboli occidentali e mare quasi calmo o poco mosso. Domenica 26 aprile condizioni di cielo poco nuvoloso, con locali addensamenti lungo la dorsale appenninica, ma senza il rischio di precipitazioni. Temperature stazionarie su valori al di sopra della media del periodo, venti deboli di direzione variabile e mare quasi calmo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, nei primi giorni della prossima settimana, sulla nostra regione persisterà un campo di alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile, anche se non in un contesto ampiamente soleggiato. Le temperature faranno registrare valori molto miti, con ventilazione di debole intensità, una situazione destinata a durare almeno fino a mercoledì 29 aprile. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it.